Sono numerose le tracce del passato, oggetti come nel caso di un'antica portantina ad esempio e ancora opere anche strutturali che raccontano i lunghi secoli di storia dell'abbazia di Santo Spirito. L'abbazia è un piccolo gioiello della città, è già di suo un gioiello in quanto la storia di Ruggero II fino ad arrivare ai nostri giorni. La portantina serviva per portare i sacerdoti che portavano la comunione agli ammalati, serviva confessionale nel tempo e adesso serve come cimelio storico, giusto per far vedere gli anni che sono passati nel tempo. E comunque sia, dice di un momento di silenzio, un momento di preghiera, un momento di contemplazione, quindi viene scelta l'abbazia di solito per i matrimoni, ma non è solo matrimonio, è storia, è cultura, è tempo che è passato, è gente che si è avvicendata nel tempo. Tra quadri, panche e mobili d'epoca ci sono anche molti libri con le loro caratteristiche e rilegature, pagine ingiallite e usurate dal tempo e che vengono custoditi all'interno di uno dei locali dell'edificio. Una stanza diventata biblioteca nella seconda metà degli anni Sessanta e che si trova proprio alle spalle del fonte battesimale. Fino al 4 dicembre la sua porta si apre per far ammirare alcuni testi che vanno dalla fine del Quattrocento alla fine dell'Ottocento, esposti in occasione della mostra il libro e i libri. Siamo partiti dalla Bibbia, quindi abbiamo in questa biblioteca o contenitore dei libri che nel tempo i padri che si sono avvicendati nel tempo, in modo particolare i fratelli Cimino, i padri Caetano Cimino in modo particolare stanno dicendo, è uno raccoglitore dei libri, ma abbiamo trovato insieme con alcuni collaboratori della parrocchia dei libri molto interessanti, importanti, datati, per esempio questa Bibbia del 1574 edita a Venezia e li vogliamo mettere a conoscenza non solo della comunità ma anche della collettività cittadina. Ci abbiamo pensato insieme con l'architetto Falzone, con Felice Dell'Utri e con Fabiana Zammarano, quindi a spostare un po' i testi, a mettere qualcosa che descrivesse il testo e da dove fosse venuto, o chi ha curato comunque l'edizione, la data, per rendere visibile a tutti quanti, alla comunità parrocchiale che sapeva di questi testi che c'erano qui dentro, ma non aveva contezza che fossero testi assolutamente importanti.